I carabinieri del ROS, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale di Enna, hanno seguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di sette persone. Quattro uomini sono finiti in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravata dalla disponibilità di armi ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Sono Sebastiano Gurgone, 71 anni, Sebastiano Calcagno, 34 anni, Giuseppe Scibona, 70 anni e Cristoforo Scibona, 45 anni, tutti residenti a Valguarnera Caropepe. Ai domiciliari invece sono finiti Antonio Martorana, 51 anni, indagato per riciclaggio, Filippo Greco, 63 anni, indagato per assistenza agli associati, Rosario Catalano, 84 anni, accusato di usura. Le misure cautelari costituiscono l'esito di una complessa attività di indagine condotta per due anni dal Carabinieri del ROS e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, sul territorio delle province di Enna, con particolare riferimento alla Valle del Dittaino. Di fatto la principale area produttiva dell'Ennese che ha da sempre suscitato gli appetiti della criminalità organizzata. L'indagine ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario in ordine alla riorganizzazione di Cosa Nostra, nello specifico della famiglia di Enna, a seguito della scarcerazione di Sebastiano Gurgone nell'aprile del 2019. Gurgone in più occasioni avrebbe proclamato con soddisfazione il suo status di uomo d'onore, ruolo che lo poneva al vertice del sodalizio mafioso operante nell'area. Per questo le indagini dei Carabinieri si sono concentrate non solo su Gurgone ma anche su suoi più stretti collaboratori come Sebastiano Calcagno, figlio di Domenico, elemento di assoluto rilievo di Cosa Nostra Ennese, ucciso nel 2003, Cristoforo e Giuseppe Scibona, rispettivamente nipote e cognato del defunto Domenico Calcagno. L'indagine ha fatto emergere gravi indizi circa una presunta pressione estorsiva tipicamente parassitaria a danno di importanti attività produttive della valle del Dittaino, sistematicamente vessate per fini di lucro.